Si è svolto in mattinata a Palermo sotto la sede dell'ESA in Via Libertà un sit-in di Flai CGL, Fai Cisle e Willa Will, tra cui anche una delegazione della provincia nissena, per chiedere l'avviamento dei lavoratori a tempo determinato, anche alla luce delle numerose richieste dei comuni che chiedono l'intervento degli ex trattoristi dell'ente di sviluppo agricolo per affrontare nei territori le conseguenze del maltempo e i necessari interventi di manutenzione e ripristino. Chiediamo la rimodulazione del contratto individuale, un tavolo di trattative serio per l'assunzione di stabilizzazione di questi lavori, dice il segretario generale Flai CGL Dario Fazese. Questi lavoratori facevano 212 giornate annuali, poi diventate 179 e quest'anno la proposta per noi inaccettabile è di porre ulteriori limiti e di ridurre a 151 le giornate degli operai con un contratto che prevede licenziamenti periodici per sottolineare la stagionalità e con lavoratori che dopo 30 anni di contratti a termine hanno fatto causa e hanno vinto le sentenze. Anziché tenere conto di tutto questo e di migliorare il servizio, si ipotizza di diminuire le risorse e di continuare con la precarizzazione dei rapporti di lavoro. Il sit-in si manterrà anche domani e lunedì, poi è previsto un presidio sotto la sede della Presidenza della Regione.